bene benvenuti ciao elena ciao stefania ciao connettiti a stefania conto da 5 a 154 3 2 1 ma come la vedi se la vedi se si la vedo e lei ha una specie di come se fosse dentro un salvagente ma non è proprio fatto come un salvagente è un cerchio rigido un po più largo ok lei è dentro questo cerchio e spinge in avanti un po in salita ma anche come se fosse come se avesse i piedi nel fango quindi con tanta fatica è agganciato questo cerchio sui due lati e dietro ci sono agganciati con degli ami e dei figli ok tutte le situazioni esterne della sua vita che sono collegate alle interferenze cioè vedo proprio le situazioni ok davanti le situazioni e dietro le interferenze che guidano le situazioni ok troppo complicato quindi chiudiamola qui e ciao no no adesso la sistemiamo abbiamo tutti i mezzi abbiamo il know how necessario abbiamo scoperto tante cose ne scopriamo ogni giorno di nuove qualcuno se ne rende conto qualcun altro no ci prendiamo tanti complimenti ea volte non ci prendiamo altri complimenti non si sa perché però non siamo alla ricerca di complimenti stefania dalla sua autorizzazione si si è fermata è uscita dal cerchio si è messa di fianco a guardare il cerchio ok è tanto sicura è proprio sicura sì 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 perché è troppo pesante così troppo faticoso ma è proprio proprio sicura sì 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 proprio proprio ok perché magari ha voglia di rimanere in questa situazione lei che l'ha creata però sta facendo no con la testa adesso però è sì l'hai creata tu l'hai voluta tu per cui la decisione di uscire da questa situazione è una decisione quella di rimanere è un'altra decisione tutte e due sono valide il fatto che tu sia qui oggi porta a pensare che tu voglia uscire da questa situazione però ci hanno contattato hanno fatto sessioni delle persone che non avevano nessuna intenzione di uscire da questa situazione volevano solo farsi sentire dire poverina o poverino e me sono capitate tante si chiamano psicopatici no no è così poverina poverino no e soprattutto visto che stefania nella sua vita si è sentita una sfigata diciamo in realtà è una privilegiata perché invece di fararsi di regalarsi una vita con marito figli cagnolino e tutto va bene nella villa se per essere regalata una vita di tribolazioni dalla quale sta per uscire quindi vincere e prendere un bagaglio di monetine di pollon che meta basta che la barbie con la famiglia ideale il camper rosa e il cavallo con la criniera rosa non prende neanche la mezza monetina esatto pollo per farsi un viaggio rapidissimo negli anni 80 e poi ritorniamo anche il 2020 ok ore che siamo tutti pieni di iridella e il suo rainbow oggi sono tutto colorato brillantini pucci e le di oscar sta roba qua degli anni 80 torniamo a stefania via tutto questo rosa stefania dall'anno l'autorizzazione sì 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 ma in modo più classico vibrazione 1,3 miliardi percentuale di consapevolezza mazza da fame 129 di s 31 vite 1687 cervello 9.4 ok tranne le vite e il cervello il resto è da bocciata vengo da una sessione con te elena l'ultima la penultima che ho fatto dove c'erano i voti più a uno tra i voti più alti del mondo una 62 di partenza fai te 194 di consapevolezza di partenza non ti dico la fine la fine la vibrazione era quasi un miliardo ha fatto ho pensato due migli no scusa mille miliardi 62 miliardi mille mille novecento cosa sì sì ma qua il problema è la vibrazione causa esoterica di questa miseria allora lei sono sempre diciamo ha consentito ad interferenze molto basse di vibrazione di tenerla agganciata fin da piccola quindi diciamo che è come se questa fosse una delle sue vibrazioni più alte in tutta la vita un miliardo e mezzo miliardo e tre o quando era depressa quanto stava quando era depressa immobile sul letto era 560 milioni mezzo miliardo ok ci sono stati anche dei momenti anche 300 milioni qualche istante ma ci sono stati entità eteriche chi tremano allora c'è questo demone che è una via di mezzo allora la faccia tipo i lineamenti potrebbero essere molto simili a quelli di satana però è tutto il resto intorno a tipo joker secondo il verso sì secondo diverso poi abbiamo ci sono c'è questo mi dice siriano ed è vicino a umiditare poi ci sono due uomini del tempo poi c'è qua un amante e qua c'è un falco uniforme edl 4 2 dentro 2 fuori mentali allora ce n'è una di livello 7 che oscilla oscilla fino a 9 arrivato che che depressione entità mentale collettiva depressione collegata alla sua entità mentale 7 che a volte a 9 9 voglia di farla finita 10 la fai finita proprio si su questo chiamiamola si si no 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 poi c'è cinque facendo una di livello 51 di livello 3 allora quella di livello 5 quella che le fa vivere allora come posso dire quando è come se a volte le fa in alcune situazioni che lei deve magari in cui deve impegnarsi un po di più per viverle quindi magari qualcosa sul lavoro oppure delle cose nuove delle esperienze nuove che non conosce a questa entità metà di livello 5 la stefania fa apparire queste queste situazioni come pericolose come difficili da superare ok e la fa reagire con l'ansia ansia crescente e rabbia quindi attacco lo sbrocco al lavoro sì ci sono tolto è quella di livello 3 è la sua inadeguatezza ecco il suo sentire la fa sentire inegua inadeguata come persone in generale quindi spesso questa entità mentale di livello 3 utilizza delle situazioni per far sentire stefania svidita inadeguata a quella situazione quindi che ne so al lavoro in alcune situazioni fa sì che dall'esterno arrivi una parola o un'azione che la fa sentire sbagliata inadeguata oppure anche in quel caso in cui quella non possiamo chiamarla una specie di strega le ha detto sì sia una persona che non serve a niente no ok quindi questa entità mentale di livello 3 crea delle situazioni in cui viene detto stefania o viene mostrato a stefania che lei è inadeguata come persona impianti fratti devo dire che la prima volta che io vedo tre impianti mentali nella testa e tutti e tre fondamentali direi nel senso grossi uguali e sono una specie di semicerchio qua davanti c'è dentro ma davanti ok cioè dove siete solo il bordo e mezzo tra tra il bordo superiore sotto a passano degli impulsi direi elettrici e di pensiero ok quindi è come se tutto ciò che passasse da lì fosse filtrato da questo mi si filtrato da questo impianto poi c'è un impianto in mezzo sì che è una sfera è una sfera che ha una specie di dalla sfera parte una specie di canale un tubo vuoto all'interno e che passa attraverso parte da lì e passa attraverso la pineale ed esce anche quello l'ho già visto altre volte è molto chiaro che cosa serve e poi ce n'è uno dietro che una tipo una una piattella tipo una piastrina ok e da quella da questa spia piastrina parte una tipo una sonda lunga che va verso l'esterno che serve per la utilizzano per direzionare stefania a seconda di dove vogliono loro progetto demolizione vibrazionale quello che tentano di fare è abbassare di colpo le vibrazioni vedo c'è molte molte esperienze che stefania ha vissuto nella sua vita hanno fatto sì erano create per abbassare di colpo le vibrazioni di stefania ok e poi con le sue capacità a riportarle su ma sono riusciti tutte le volte a far sì che non tornasse mai al livello di partenza ma sempre un po più basso e quindi pian piano hanno fatto in modo che il suo livello di base fosse molto più basso rispetto ad acqua quando è nata quanto era quando è nata a livello di vibrazione 327 miliardi ok quando ha stata costretta a 18 anni ad abortire quanto si è abbassata 496 milioni quando da bambina il contadino ha cercato di abusare di lei 680 milioni quando da bambina o ragazzina le macchino macchina si fermava tirava giù il finestrino le facevano dei pre apprezzamenti sessuali 823 milioni quando la maga le ha detto non vale nulla c'è una persona inutile 481 milioni forse la frequenza più bassa no 300 genera 300 va bene cinema genitori sono davanti la mamma molto preoccupata in ansia è molto equa con anche lei con una voglia di vedere una soluzione per stefania uno strumento che stefania fratello cinema se c'è non è non è prima fila con la mamma è in terza fila curioso di vedere cosa vuole mostrare stefania non è per niente scettico curiosito i due amici maschio femmina se allora la femmina davanti in prima fila anche il maschio vedo si fida molto di loro due quindi è molto entusiasta di vedere cosa loro vogliono mostrarli e la maga che mi amano il cinema ma ciò fa entrare frizzata dalle vibrazioni alte non vuole imparare quella ps che lì dentro non vuole imparare qualcosa c'è un grosso contrasto allora io sono andata quanto detto la ps che lì sono andata parlare direttamente alla ps e c'è un grosso contrasto nel senso che ha scelto di fare quell'esperienza con lo scopo di far sì che il corpo diciamo tutta la parte di della maga in cui ha voluto incarnarsi arrivasse a capire questa cosa e ne uscisse a livello conscio ok se lei spingesse adesso la maga ad entrare nel cinema sarebbe una forzatura e gli si ripresenterebbe un'esperienza forte tanto quanto di nuovo se non peggio e quindi c'è troppo contrasto e adesso non vuole andare avanti su quella strada lì e qual è la strada della maga allora la ps punterebbe a far sì che la maga veda quello che sta facendo e l'energia che porta quello che sta facendo e trovare una soluzione per uscirne ma a livello proprio consapevole ma la maga fino adesso proprio ante tutto il contrario anzi si sta buttando sempre di più in quella cosa lì trascinata da quell'energia lì si sta proprio facendo trascinare sempre di più negli abissi di quell'energia pesante lì e cinema ma l'occasione della psd di capire che questa cosa che sta facendo è una minchiata la ps mi ha detto glielo fatta vivere apposta ma a livello consapevole non lo vede e quindi io devo aspettare che lo veda a livello consapevole voglio aspettare potrebbe farla entrare nel cinema ma non è la sua scelta e la scelta di chi del mentale della maga no no nel senso la scelta la ps ha deciso di no va bene consapevolezza dell'auto di questa ps della maga 83 ma spettacolo di meno effetto 99 scimmia di cui gode la ps della maga cioè lei non è così 83 per cento consapevole di suo ma gode della consapevolezza degli altri vuoi sapere quanto di quello senti senza la consapevolezza delle altre ps consiglierebbe sta 31 ok perché non se ne sta 31 perché dovrebbe godere del lavoro degli altri che tirano il carretto e lei che non vuole tirare il carretto si deve prendere 50 di consapevolezza allora è una certa percentuale che è un po quello che stiamo vedendo un po quella quella quel particolare che stiamo vedendo che in questo momento diciamo in questo periodo c'è anche per quanto riguarda le fiamme no che c'è proprio come se ci fosse l'energia dove le fiamme si stanno ritrovando e più fiamme si ritrovano e più se ne ritroveranno no quindi è come se ci fosse un riverbero delle vibrazioni più alte che vanno a prendere un po fuori vanno un po a far vibrare diversamente anche un po fuori un pochino e diciamo che la maga prende un po di riverbero di chi è più consapevole ea tutte le ps succede così una parte la prima allora ma sinceramente non va di regalare 50 a una che va in giro a dire a alle persone che tra l'altro l'hanno erroneamente pagata che non valgono niente quindi o si prende la vic e si tiene su 83 per cento quello che è o restituisce il 50 che ha goduto degli altri e la vic non se la prende e se ne va quindi trasformiamo una persona o in estremamente peggiore o in estremamente migliori trasformiamo e rimettiamo poi pezza del loro posto che non capisco perché questa qua debba anche godere del carretto trainato dagli altri pure ma da farsi la sua esperienza che ha deciso se la vuole fare la fa tutta senza gli aiuti degli altri sennò si dà una sveglia o no se sa che non la prende non la prende bene restituisca quello che allora ha delle altre ps la sua costruzione 42 non ha restituito tutto pure ladra s31 bene per stefania la sfera energetica di stefania se lei vuole mettiamo in un portale dell'oblio stefania se la dimentica e lei dimentica di stefania ovviamente nella realtà ti può anche contattare di nuovo eccetera ma tu l'hai messa lì e poi anche attivarti per bloccare per sistemare per cambiare il numero di telefono quel che vuoi insomma ovvio che devi anche agire no nelle nella logica della matrix però l'energia qui la propria energetica fuori dalla tua vita ma vuole l'energia prima se bisogna agire quindi dice la blocco sul telefono ma questa mi chiama con l'anonimo per raggiungere mi cambia il telefono è ma è ma lo fai basta fino a questa è fattuta e stop fine spero che non sappia dove abiti lo so fatto ok ok lunga serie di cause esoteriche attacchi di panico la 5 l'entità mentale 5 c'è come se li facesse partire l'entità mentale 5 e poi li portasse avanti l'entità mentale 7 i suicidi la 7 barra 9 dolore fisico generalizzato allora devo riguardare l'entità mentale che allora c'era quella specie di demone poi c'era il siriano giusto con militare e dopo c'erano agli uomini del tempo no se falconiforme diciamo che è quasi come se il falconiforme dovesse c'è le mandasse degli impulsi come se dovesse fermarla e quindi vedo proprio che dalla testa partono questo come se fossero degli spasmi intorno ok che fanno così e le fanno proprio la fanno proprio fermare perché lei sente dolore obrisità e ossessione per il cibo lì è tutto legato alla alla parte demoniaca la parte dei demoni del temone che è legata a tutta la parte di violenza sessuale nelle varie generalizzata nella sua vita è come se ci fosse un vuoto per allora c'è questo vedo questo vuoto che lei colma col cibo questo vuoto è dato dalla sensazione di senso di colpa di essere che non essere adeguata di essere un po di essere un po sporca di fare un po di brezzo e di quindi di meritarsi questa violenza ok quindi questo infatti mi viene da dire che sotto sotto il senso di colpa che deriva da questo nel senso sono io che attiro questa cosa vicida tra virgolette mi viene da dire e creo il senso di cui mi viene il senso di colpa e quindi non lo dico nessuno perché è colpa mia la modalità con cui si effettuano e vedo proprio poi crea questo vuoto quindi perché non sono adatta nessuno che ho il vuoto che colmo col cibo endometriosi allora è partita allora tutto questo meccanismo alice li abbiamo durante le abduction e potrete uomini del tempo che hanno fatto partire questo meccanismo poi gli vengono fatte le abduction in collaborazione con la mantide ok da lì è partita questa interferenza di uno dei due uomini del tempo che riguarda proprio il suo rapporto con il partner con un eventuale partner ok quindi c'è stata interferenza da lì abduction e hanno è come se avessero messo come se le avessero messo il fito ok rapporto e 18 anni ok c'è il feto che le ha abortito a 18 anni e da lì è partita tutto questo meccanismo come se ci fosse una paura un rifiuto quindi appunto che lo dicevano adesso lo ricollego verso gli uomini ok ma in fondo in fondo davvero avuto un figlio l'avrebbe fatta sentire importante ecco mi viene questa cosa qua ma è fatto stato fatto tutto da lì ernie sono degli impianti eterici 4 allora uno alta cervicale uno più o meno tra le vertebre cervicali e le prime dorsali e l'altro più o meno verso la fine dei dorsali e uno lombo sacrale che sono come se fossero delle come se vedessi dei cerchi che si illuminano ok a cui si attaccano attaccano tipo dei tubi eterici ok anche questo è come se la bloccassero quando le prende una direzione che può essere molto favorevole per lei che la porterebbe verso a una buona consapevolezza la bloccano le mandano questi dolori e fanno sì che lei si blocchi colon irritabile è legato un po al senso di colpa del troppo cibo che mangia mi viene da dire quindi è come se il suo cervello poi andasse in una certa fase attiva quando deve digerire le cose per quanto riguarda la parte dell'intestino ok l'apparato digerente dell'intestino quella parte lì si irrita perché parte un meccanismo di quasi rifiuto come senso di colpa del cibo e quindi riesce ad assimilare non in maniera corretta pressione alta ma direi che un po tutto l'affaticamento fisico dato da il blocco che le creano le interferenze proprio blocco fisico nei movimenti quindi con tutti questi dolori la fatica della digestione e questo sovraccarico che lei mette è proprio come se il metabolismo fosse molto affaticato un po quell'immagine che ho visto all'inizio che lei vive con fatica e questa fatica vedo che fa alzare la pressione asma patia entità mentale livello 5 e 7 l'asma la vedo molto legata agli attacchi di panico si è ritrovata con tre cini fatti cini vac fatti bla 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 causa esoterica fatti allora l'ho visto molto chiaramente mentre lo raccontava le sue interferenze a come spiegavo prima che vedevo le abbassano le vibrazioni tanto e poi le un po le riporta su ma mai a quel livello sono riusciti a creare quel collegamento che vedo sempre è come se creassero un'ipnosi ok che porta le persone a fare questa cosa quindi a farsi cini vac e lei molto chiaro lo vedo molto chiaro quel tubo che ha che passa tra la p che passa attraverso la pineale e poi va al centro ok e quello con cui riescono a fare il lavaggio del cervello alle persone e non è la prima volta che vedo che le persone che hanno quella cosa lì l'ho visto già tra quattro volte vengono pian piano convinte a farsi cini vac ed è questo gliel'hanno messo quando aveva un momento in cui ha avuto le vibrazioni molto basse posso aggiungere che le interferenze nel suo caso utilizzano spesso le persone esterne quindi fare interferenza su stefani attraverso le persone con cui lei ha a che fare e hanno agito molto con il datore di lavoro e la sua dottoressa il terzo punto lo assumerei in modo che poi agiamo un po depressione ansia crea un mondo irreale si sente paralizzata si nasconde dal dolore vabbè sempre più meno stessa cosa la causa sono e trafitta 57 se uomini aggressivi bugiardi pedofili di vario tipo nella sua vita maniaci quella al demone ok e poi un uomo del tempo per farsi che non trovi un uomo adeguato a l'infanzia sola infelice spaventata e non anni a tutti i ricordi al loro posto tranne quelli con la madre la madre le dice delle cose e lei non si ricorda assolutamente nulla della madre mi è stato molto chiaro mentre lo parlava mentre lo raccontava subito già da quando è nata la prima interferenza che sono riusciti a mettere era proprio questo dimenticarsi della mamma di tutto ciò che lei faceva con la mamma perché l'ho visto molto chiaro se lei avesse avuto un rapporto fosse ricordata del bel rapporto e della bella esperienza con la mamma e fosse riuscita a viversela proprio profondamente ok sarebbero riusciti ad abbassare le vibrazioni neanche un decimo di quello che hanno fatto e quindi hanno le interferenze hanno subito tolto interferendo appunto sui ricordi per toglierle tutte le emozioni e sensazioni che lei ha vissuto e avrebbe vissuto ancora di più ricordandosi anche negli anni e le esperienze con la sua mamma cosa fa la mamma adesso il cinema allora se ne sa piangere è andata abbracciarla stretta stretta si stanno abbracciando il padre che fa sorridere guarda è molto contento sorride uniamo la commozione di questo momento a quella eventuale possibile e disincarnati portale aureo ho fatto un esperimento normalmente lo apriamo e basta diciamo che tu aprilò diametro x diametro 10 1 diametro 1 quello normalmente che apriamo e che attira quei 100 200 300 ok apriamolo a un diametro questo 1 1 a un miliardo tanto un miliardo di volte quello cui lo apriamo normalmente diventa una mega voragine se chiamiamo tutti i parenti di tutte le generazioni di stefania tutti disincarnati che vogliono venire tutti i conoscenti dei parenti che a domino a catena chiamano e chiamano e chiamano e chiamano io sono convinto che questi disincarnati bloccati sulla terra siano una grossa riserva di grasso diciamo per le interferenze per il display per tutto quello che non va proprio alla riserva di grasso tanto comunque possiamo attingere da lì e noi si e le doiamo viva il corpo fit allora arrivano da tutto il mondo sono arrivando ovunque siamo a 329 milioni questo esempio diciamo che tu in vita tua elena vai fa in viaggio in sudafrica e conosci 20 persone tra la receptionist il tassista no tutte queste diciamo che sei una disincarnata tra cento anni vai a recuperare il tassista del sudafrica la receptionist la vicina distanza la vicina di piscina con il marito e tre figli tutti questi qua questo è il livello a cui si va quindi chi ha viaggiato può portare centinaia se non migliaia di persone fatti in stato disincarnato sia quelli che vuoi a chiamare sia quello che sei tu se con quante persone veniamo in contatto in una vita migliaia più sì perché poi quello chiama gli altri quello chiama l'altro poi sono di tante generazioni in tutto il mondo adesso ne sono arrivati appunto 329 milioni ok occhio di bue però su fratello e amica se se intanto il numero aumenta poi alla fine non me lo dirai fratello amica hanno due podi due occhi di bue due microfoni due vic subito così andiamo all'essenza del fratello che non c'è più e all'essenza dell'amica che non c'è più allora la ps fratello vede quello che ha vissuto si dice poi dirà stefania che ha dato una prova a questo corpo troppo forte c'è la ps come se avesse calibrato male la prova che ha dato al corpo dove era il fratello era sta era troppo non è stato in grado di superarla quell'esperienza lì non era adatta a questo tipo era quella vita lì e queste le informazioni che ha preso il fratello ea stefania vuole dir tu sei tanta roba tu sei tanta roba e per questo che ci bloccano si tanta roba non fartelo più fare questo è il fratello si è la bracciaforte quali sono i piani della ps del fratello che fatto questo pezzo di gioco e adesso ne fa un altro se ritorna la sorgente va in vacanza no no allora era già chiaro che dice che è come se volesse riprovare l'esperienza un po meno più calibrata per superarla si è qualcosa legato al è come se ha avuto una brutta esperienza rispetto al viviene mi fa vedere tipo un'esperienza relazionale con amicizie e con i morose fidanzate sì siamo alato mi fa vedere che sia morto per quello ma d'amore se ma quali sono i suoi nuovi progetti adesso sono i progetti sono di nuovo puntare la le esperienze sul sui rapporti interpersonali quindi amicizie profonde e di coppia calibrando un po però l'intensità lì non era esagerato non era gestibile da parte sua e del corpo ecco e poi sulla terra quindi sì la prossima vita si la prossima vita sulla terra vuole aggiungere qualcosa sì diciamo che mi poi mi fa vedere diciamo tutto un'idea di programma che si è fatta per sé ma non potrei dirti prima o dopo è una nuvola che tutta assieme con varie vibrazioni colori che stanno poi vedo delle strisce di colori che passano e varie cose e sono è un misto tra rimanere in una vibrazione che non è sulla terra quindi passare un po di tempo tra virgolette che non c'è c'è lei non mi dice tempo mi fa del tutto assieme e poi fare altre vite e tutto un po assieme ed è come se la ps può vedere la fine del suo gioco ma non la può vedere diciamo a una previsione ma qui per giocare quindi non lo sa diciamo ecco è necessario il gioco per arrivare la che in di là non sa quando è come fa che c'è ma non sa quando come ecco l'amica l'amica ci tiene a te ha proprio a voleva proprio dire questa ben anzitutto la ringrazia veramente tanto dal profondo del suo cuore per averle dato questa enorme opportunità perché sarebbe rimasta incastrata lì e non si sarebbe mai più mossa da lì se non fosse stato per lei perché era proprio incastrata nel momento della sua morte la vedo adesso non so ma la vedo quasi come soffocata dal sangue non so mi fa vedere questa cosa e quindi è molto gratta per la possibilità che le sta dando stefania e la cosa che a cui ci teneva dire che era una è una delle sue anime affini più affini con cui più affini che ha trovato in tante altre sue vite e questa è stata un'ulteriore esperienza con lei sono anime affini di quinto livello e ci teneva a dirglielo perché lei quando può quando può nella sua vita la sceglie sempre se lì disponibile lei la sceglie il suo percorso sono state cose in altre vite allora petto due sorelle gemelle ma ha fatto vedere subito una vita in cui erano due sorelle gemelle c'è due capelli castani con le trecce lunghi perché lo vedevole stessa sorelle gemelle e poi in una era lei la sua amica era il capitano di una mamma grossa barca si trasporta persone lei era sotto ufficiale erano molto affiatati tante vite se 10 quindi diciamo a stefania e diciamo alla sua amica che non c'è molto da essere così stupiti che la l'amica stefania aiuti l'amica amica perché con tante vite così vicine c'è un legame come dire a per fortuna che ma non c'è la fortuna ma era un po come anche un po deciso anzi magari che ne sappiamo dai adesso ci incarniamo poi hanno fatto tutti i loro accordi però poi tu farei una cosa che non sappiamo ancora cos'è e mi aiuti e che l'hanno già deciso è certo si si confine tra libero arbitrio e quello che accade è ancora abbastanza un punto di domanda non sappiamo ancora niente se il tempo non esiste è tutto già fatto quindi anche questa cosa magari visto togliendo il divertimento no da sotto la sedia sederà sotto il q ma più o meno può andare andare così può essere che vada così l'amica cosa farà come prossima sessione la prossima esperienza sì allora allora mi fa vedere che come se vaga un po la vedo vagare diciamo nel lettere tra virgolette zona oceania mi fa proprio vedere tipo australia oceania così con la zona lì no è come se fosse la ricerca di una certa vibrazione la dice li salutiamo tutti se fratello l'amica che quanti disincarnati adesso siamo a 472 milioni bene 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 via tutti cosa fa audino claudino di stefania può fregarina più di tanto ma di 470 seppia meno seppia meno seppia meno seppia meno cadono le piume all'istante lo erano da versi un caffè bar ti trova nemmeno mi frega 470 milioni in meno gli rimangono reali solo ossa senza più sape rodino vale di più o uguale di più di meno uguale un vivo o un disincarnato più un vivo però non di tanto un po meno e da tante cose si dipende da tante cose diciamo che a parità di parametri un disincarnato lo vedo un po sfocato trasparente mentre una persona viva e bella di ci si vede proprio ecco quindi questa è la differenza di quantità di sostanza diciamo che un incarnato sveglio passatemi il termine o comunque poi non vuol dire ne sveglia non è meglio di con questa visione stefania non è sveglia e quindi stefania si va di prima di più no stefania deciso di fare più monetine di pollon no mentre quello un po più che lei già fatte le monetine in un'altra vita l'interfer fa altre esperienze l'interferenze le resping le respinge ecco perché dico sveglio uno sveglio audino non frega più di tanto e magari vale di più un disincarnato medio medio basso pieno di diavoli e di robe perché non ha capito niente pieno di religione perché era lì che pregava dalla mattina alla sera quando era in vita mentre al contrario una vivente molto interferito può essere anche come stefania fino ad oggi perché da domani non lo sarà più vale molto di più di 5 disincarnati medio esatto mediamente consapevoli esatto quindi dipende però diciamo che in generale è uno che produce reddito uno vivo il seguito energetico mi sto dilungando si è come se scusa è come se disincarnato è fermo lì e quindi quello poi riprendere mentre una persona viva cambia sempre quindi può solo aumentare l'apporto di quello che le interferenze possono prendere ma c'è una fattura sulla testa di stefania sulla casa di stefania legata alla maga e non o non allora vedo che questa maga in generale di suo fa fin quando una persona si aggancia lei ma mentre prende poi ogni tanto fa finta di dare quindi no vedo proprio che ogni tanto fa finta di dare un po di vibrazione alla persona di energia in qualche maniera in maniera tale che la persona si è agganciata ok nel momento in cui la persona si sgancia lei lo fa proprio di default con tutti è come se impostasse con il suo aggancio riesce a rimanere agganciata perché è come se impostasse una manopola che misura l'energia ad una vibrazione che rimane bassa quindi c'è sempre finché non ci si sgancia da lei c'è sempre una piccola porta una piccola porta energetica dove le interferenze possono interferire la persona come se lasciasse aperto lo spiraglio vabbè quindi non c'è la magia cioè se vogliamo se lo permette c'è una dipendenza dalla magma o me non lo permettiamo più e sta siamo creatori stefania pensa di essere una loser direbbero gli inglesi no invece è colei che oggi può ribaltare il banco può risciare il banco con tutte le fish con tutta la roulette della sua vita tutto quello che i proprietari del casino temono c'è la nella sala dei comandi che guardano cosa succede nel gioco bella questa immagine delle telecamere che capiscono chi parla o chi non bar e chi barra per loro e chi ha capito stefania ha più che capito stefania prende la maschera del croupier la toglie dentro c'è un'interferenza ribalta il tavolo cioè non accetta più il gioco il gioco lo crea lei le telecamere si rompono il panico è nella room di comando se si fa ne crea una d'eterno perché leva non solo mette neanche da nessuna parte non lo mette neanche nessuna interferenza nella parte del corpo fisico leva se le interessa farlo le piace gioca creando e scopre che può alzare la sua frequenza fino a quando quanto poi arrivare a 670 miliardi magari gradualmente così non è troppo sentirebbe troppo la differenza a livello fisico non può fare vedo che lì potrebbe arrivare adesso allora fa così ha creato il suo d'eterno e con le mani è come se intorno poi dalla d'eterno le si creasse nuovo la sua nuova vibrazione e ogni volta l'aumenta un po ok e sta arrivando a 270 miliardi ecco ottimo andiamo al cluster se come vedi la situazione allora ogni sua vita quindi contratti di ogni sua vita sono rappresentati da un pipistrello lei ride non so perché forse ne ha paura o forse le piacciono non so forse a tutti i posti di batman a casa non so poi ce lo diranno sì quindi è un pipistrello per ogni vita è un casino li vuole tenere assolutamente no sta aprendo il portale definitivo aperto e vengono tutti risucchiati un bacio ok e vanno tutti dentro te li nuovo ad eterno coloriamolo di violetto di rosa tendente al viola di blu tendente al viola di quello che le pare non esistono limiti non c'è a così è troppo leggera lei decide lei capo alessi merita tutto perché il gioco è suo è la teraprice e gli altri zitti secondo universo non sa neanche come sta girato lo fulmina in un secondo il secondo diverso il joker secondo diverso non dire la sua interferenza del secondo diverso continuo a variare il colore è più bello più brutto del primo che ha creato allora il primo aveva l'aveva creato appunto con l'intento di alzarle le vibrazioni e come se lei cambiasse il colore e la modalità di diffusione delle vibrazioni della d'eterno ma seconda della dello scopo del momento quindi ti aveva creato e poi le vibrazioni aumentavano in dire nella sua direzione e che le facevano aumentare terra viola azzurro adesso è arcobaleno nel senso continua a variare la nuance del colore quindi fa blu viola rosa verde giallo bianco blu violi cominciano continuano proprio questo gioco cromatico e la vibrazione si diffonde come se fossero dei raggi in tutto cluster in tutte le direzioni ecco molto bene andiamo all'avatar e appare molto stizzito gli facciamo vedere adesso un panorama immenso quella è la vastità del cat che ce ne frega della sua stizza del programma stizzito 5 adesso anche i programmi sostizi di merita già sono giustizito vedere che si danno retta a quelli con le entità mentali e cura oggi corali succubi di gente in preda entità mentali livello 89 dicevo via l'avatar stefano stefania se ok l'ha puntato e ha chiuso il portale ma l'eterno anche qua si ne fa molto simile a quello del del cluster diciamo basta la funzione è la stessa per lei con questa nuova condizioni questa nuova condizione il joker i siriani i due uomini del tempo il falco l'amanti dei 4 dl l'entità da 7 a 9 depressione suicidio lenti tra l'entità rabbia 5 la 3 svilita essere eseguita gli impianti il progetto di monopolisione vibrazionale tutto questo c'è ancora no che nuova vibrazione 315 miliardi consapevolezza 169 ps 53 vite 1416 cervello 9.8 causa esoterica dell'arrivo del gatto alle spalle di stefania che guarda in un punto molto incuriosito non so cosa come se vedessi che stanno ascoltando ed è come se lui se il gatto vedesse il punto da cui trovano ad ascoltare e vedo sullo schermo di stefania dall'angolo in alto a destra che come se ci fosse il punto da cui ascoltano ok la voletta russa è finita ora stefania ha capito in eterico si può mettere uno o più ad eterno nel corpo fisico messi 21 allora uno sul sulla parte proprio della testa del cervello collegata a tutto l'apparato digerente 1 nello stomaco poi alterniamo 1 lo mette nella nella control room del casino 1 si come è stata interferita lo mette a casa della strega vibrazione della strega da 30 milioni a gli arti 30 miliardi se la scusa consapevolezza da 30 per c 31 per cento adesso è la vedo molto in difficoltà con lato interno ma è un momento in difficoltà in stand by direi adesso la consapevolezza ferma ancora lì nel senso che è come se la vedessi che sta male cortocircuito come sempre uno nel corpo mentale di stefania ma corpo emozionale sì corpo eterico corpo subliminale ok nel casino ci sono tanti bar travoli la bollette russa blackjack poi io mi fermo qui nelle mie conoscenze mette una d'eterno in tutto il casino e una d'eterno su ogni tavolo del gioco il casino il suo ovviamente bene messaggio finale di lei a se stessa ora sei molto attiva e poi agire liberamente tutta la carica per agire nella matrix l'unica cosa che ti può riportare indietro il ricordo sono due cose ricordo delle violenze tra virgolette il ricordo della depressione ogni volta che arrivano puoi fare quella d'eterno che hai fatto all'inizio da cui poi si alzano le vibrazioni mandi via ad eterno e alzi vibrazioni puoi fare tutto puoi trovare in un attimo il lavoro che ti piace poi assolutamente in un attimo prenderti cura del tuo corpo poi in un attimo vivere allegramente c'è la vedo proprio che fa tutto assolutamente subito deve solo lasciare fuori i ricordi che la porterebbero di nuovo per apri cinema che succede la mamma salta dalla gioia è contentissima di vederla così è contentissima che ha trovato questa questa soluzione questa strada ok mi stavo dimenticando lei non l'ha chiesto ma l'aborto è una ps o una pia no non è una ps se c'è già andata a fare altri giri se l'avevo già visto prima sì 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 potrei dire se stati uniti come pie però come pie va bene abbiamo finito